E' caos nell'Arettino per la sede stradale ghiacciata durante la notte, una timida nevicata ha imbiancato le strade anche a basse quote e poi si è formato il ghiaccio. La città e anche la provincia si è risvegliata con la sede stradale completamente ghiacciata, tanti gli incidenti che si sono verificati e conseguentemente anche le code. Alcune strade sono state anche chiuse al traffico e gli automobilisti sono rimasti in coda anche oltre un'ora e mezzo. E' iniziata la quarata, la fila e siamo ancora qua. La strada in Montione sarebbe chiusa ma ci passano uguali, non so che fine faranno perché è tutto ghiacciato. Io ci ho provato e sono tornato indietro. L'incidente che ha causato il caos maggiore si è verificato lungo la via di Montione nei pressi della città di Arezzo. Un mezzo di sei Toscana che stava effettuando il giro della raccolta della spazzatura è finito fuori strada in un campo laterale. Nessun ferito per fortuna ma la strada è stata chiusa e il traffico si è riversato tutto lungo la Sette Ponti. Mi sa dire da quanto è in fila? Dalle otte e dieci. Da dove arriva lei? Da Melisciano. Com'è lì la situazione? La situazione è una lastra di ghiaccio completa, sinceramente mi aspettavo qualcosa di diverso stamani, visto ieri sera un attimino si potevano anche muovere con qualcosa di spazzesale. Delle code mostruose veramente, sì, da lotte e dieci per arrivare qui ancora. Non è andata meglio nel territorio della provincia di Arezzo dove si sono registrati gli incidenti più seri. Un cinquantenne ha urtato il guarderei laterale della I-45 a Pieve Santo Stefano e una diciannovenne è stata portata a Careggi con il Pegaso dopo essersi cappottata con la propria auto a Bibbiena in Casentino. I disagi maggiori si sono avuti soprattutto nel reticolo viario secondario, anche quello a ridosso di alcune scuole. Ho visto i bambini quando entravano a scuola accompagnati che li tenevano proprio perché si scivolava facilmente. Le segnalazioni dei nostri telespettatori arrivano da ogni angolo della città. Qui siamo nella zona della Marchionna, qui ancora nella frazione di Venere, ma arrivano anche da Stagiano, Salleo, Giovi. Io vengo dal Fonte Rosa, insomma, dalla zona lì della Marchionna, lì le strade erano veramente impercorribili, insomma. Tante le proteste dei cittadini, soprattutto sui social network, dove sono i mezzi spargi sale, è la domanda più frequente di oggi.